Il piano non cambia. Giusto. Io mi occupo dei clienti. Tu dal direttore. Se le minacce non bastano, tu fai ciò che devi. Ha sempre addosso le chiavi del cavo. Se un cassiere attiva l'allarme, quanto tempo abbiamo? Cinque minuti, forse. E poi entrano in scena gli sberri. E se va tutto a rotoli? Questo non è un gioco d'uomo. Si sente degli spari dal cavo. O non salire. O esotti, o niente. Lo facciamo. Lo facciamo. Tutti a terra, forza! A te, ragazzo! Voi no, signorine. Restate dove possiamo vedervi. Una sola mossa vi ammazza tutti! Prendi il direttore! Dovete stare tutti quanti a te! Io lo dico, se qualcuno si muove, comincio a sperare! Dovete stare tutti quanti a te! Vogliamo che torniate tutti a casa dei vostri figli stasera! E' carico! Votete a noi! No, no! Non è uno scherzo, se avete capito! Giù nel cavo! Farò tutto ciò che vuole. Nessuno deve farsi male. Dai, muoviti! Senti forte a prendertela con il piccoletto. No, mi sento ricco. E il piccoletto sopravvive, se non fa niente di stupido. Quante guardie ci sono nel cavo? Una. E sparerà? Non lo so. Se tira fuori la pistola, lo impallino. Quindi digli che se ne stia buono. Dipende solo da te. Ma tutto bene? Il direttore è stato bravo e sta collaborando. Farà tutto quello che gli dico, non è così? Dai, muoviti! Non la passerete, Lisa. Prima o poi vi beccano. Tu preoccupati per te. La vuoi vedere tua figlia alla cerimonia per il diploma? Tieni le mani dove le vedo e dia alla tua guardia di fare lo stesso. Ricorda, quando incontriamo la guardia, digli di buttare la pistola. Hai capito? Ascoltami molto attentamente. Devi buttare la tua... Addosso, ragazzi! Guardate! La chiave è sul tavolo. Nessun altro deve morire. Io sia il primo! Io sia il primo! Io sia il primo! Chiudetevi! Merda! Ne sono le spiriti! Ho capito! Andiamo! Prendi i soldi, è ora di andare! Non è possibile! Arrendetevi! Lasciatevi! Siete circolati! È mio! Moittà, voli! Convocate tutti dalla stazione! Tutti! Infiotateli! Non vengono a scappare! Stiamo a scappare! Non vengono a scappare! Non vengono a scappare! Non vengono a scappare! Non vengono a scappare! Ti sono venuti! Non vengono a scappare! Sì, l'hanno visto? Andate a prenderlo. Sì, l'hanno visto? Andate a prenderlo. Sì, l'hanno visto? Andate a prenderlo. Andate a prenderlo. Ci siamo quasi, Tom. Ce l'abbiamo quasi fatta. Quasi non è abbastanza, Poli. Ce l'avremo fatta quando il mio cuore smetterà di volermi uscire dal petto. Andate a prenderlo. Andate a prenderlo. E' fatta! Non ci posso credere! E' fatta, cazzo! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Già. Per i vecchi tempi. Certo. Dobbiamo andare. Ci vediamo domani. Io sarò già in volo per l'Hawaii. Oh, andiamo! Scherzavo. Ehi, non ce l'avrei mai fatta senza di te, lo so. Torna a casa e festeggia con Sara. Domani vieni da me e ti vediamo un malloppo. Sì, ok. Buona fortuna. Ci vediamo, Dom.